Dopo 9 mesi si torna a parlare nuovamente di lockdown e per fortuna lo si fa in maniera completamente diversa rispetto alla prima edizione, rispetto allo scorso marzo. Non lo diciamo noi ma lo dicono soprattutto gli imprenditori, i membri della community siderurgica che come redazione stiamo sentendo dalle zone rosse, dove segnali di ottimismo e di speranza hanno lasciato lo spazio ai timori raccolti nella prima edizione dello stop. Questo perché? Perché di fatto il DPCM ha lasciato maggiore libertà alle imprese di operare. Una scelta ponderata anche sul fatto che i dati raccolti nel corso del primo stop hanno dimostrato come nelle imprese che sono rimaste attive il tasso di contagio fosse il medesimo di quelle completamente chiuse, salvo che si rispettassero i dettami e i protocolli stabiliti dal governo, dalle aziende e dai lavoratori. Pertanto hanno ritenuto inutile chiudere le imprese nuovamente e avere di nuovo dei danni economici. Inoltre questa volta è completamente diverso anche perché a fermarsi è stata tutta l'Europa più o meno in contemporanea per cui sono svaniti anche quei timori raccolti nelle prime giornate di fermo di una possibile sostituzione dei clienti, dei fornitori italiani con degli altri competitor per cui di fatto tutta l'Europa rallenta tutta l'Europa è in lockdown e questo mette tutti sul medesimo piano. Sebbene dal punto di vista logistico operativo le problematiche siano praticamente inesistenti se non salve qualche raro caso, questa seconda ondata ha però portato in auge un nuovo timore, una nuova incertezza che ha frenato lo slancio che si era invece registrato tra agosto e ottobre e questo è un fenomeno di cui non si riesce a capire bene l'entità, almeno non è quantomeno ancora misurabile, quindi bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire effettivamente questo rallentamento di quanto potrà andare a incidere sull'operatività dell'anno. Detto questo, proprio alla luce di questa incertezza ancora, solo fino a quando non arriverà un vaccino, le voci si stanno rincorrendo negli ultimi giorni, probabilmente non si raggiungerà quel clima di serenità necessario per raggiungere il vero rilancio e liberare quelle energie positive che ogni crisi porta ad accumulare per poi sbloccarsi una volta finita.